Il treno servizio ferroviario metropolitano, linea 3, 26, 3, 7, 4, di Trenitalia, proveniente da Turino-Porta Nuova e diretto a Susa, nelle ore 17.04, è in arrivo a binario 2. Attenzione, allontanarsi dalla linea Giasta, firma in tutte le stazioni. Il treno servizio ferroviario metropolitano, linea 3, 26, 3, 7, 4, di Trenitalia, proveniente da Turino-Porta Nuova e diretto a Susa, nelle ore 17.04, è in arrivo a binario 2. Attenzione, allontanarsi dalla linea Giasta, firma in tutte le stazioni. Attenzione, allontanarsi dalla linea Giasta, firma in tutte le stazioni.